Ma non ci occupiamo di arte direttamente, ma di arte, di quello che si chiamava arte applicata all'industria. E il nostro obiettivo, una delle nostre più grandi missioni, è proprio quella di andare a portare questo soffio poetico all'interno di ritualità, o meglio di routine quotidiane, che speriamo possano diventare ritualità e momenti di, come dire, di approfondimento, di espansione, di amplificazione della nostra percezione della vita. Per cui questo piccolo tocco di creatività e di fantasia che viene portato all'interno delle case e della quotidianità, serve proprio a portare della felicità in piccoli gesti che spesso rischiano di diventare molto banali e ripetitivi. Fare un progetto innovativo è un'attività abbastanza rischiosa, perché ti porta a indagare un campo che non ha certezze. In Alessi noi usiamo questo termine, borderline, per definire una ideale linea di confine tra un progetto che è innovativo, che è inaspettato, che emozionerà, ma che anche le persone saranno disposte ad amare, ad avere nella loro casa, e qualcosa che invece rigetteranno. Quindi c'è il campo del possibile e il campo del non possibile. Per essere innovativi devi avvicinarti il più possibile al non possibile, cioè il più possibile a questa ideale linea di borderline. Il nostro desiderio è quello non soltanto di lavorare il più vicino possibile, ma addirittura di spostarlo un po' più in là.